Secondo appuntamento della stagione, quali segnali stai vedendo in questo Perugia e qual è il vostro grado di condizione? La condizione è quella che è normale, stiamo mettendo benzina nelle gambe, stiamo lavorando forte e quindi è normale che le gambe non vadino fortissimo, però stiamo cercando di assimilare tutto ciò che il mister ci chiede, perché rispetto allo scorso anno abbiamo potuto iniziare dall'inizio e quindi è totalmente diverso, entrare in corsa è totalmente diverso che partì dall'inizio e quindi c'è stato un approccio differente, siamo contenti di come stiamo lavorando, è normale che avendo anche tanti giovani bravi dobbiamo essere uniti e essere consapevoli che ci possono essere anche degli errori, ma questi fanno parte della loro crescita e che ci porterà poi a ottenere dei risultati. In cosa magari sei sorpreso di questa nuova preparazione? C'è il mister che ti ha sorpreso in qualche modo? Stiamo lavorando veramente bene, lo staff è organizzato e quindi già partiamo da una base importante, ora c'è solo da migliorare, da far crescere i vari giovani perché ce ne sono i ragazzi che hanno voglia e con qualità, è normale che poi la serie c'è un campionato difficile, tutti pensano che sia facile, ma la serie c'è un campionato difficile e quindi ci vuole la grinta, la determinazione e anche quel pizzio di malizia che il giovane lo apprende giocando e quindi c'è da lavorare anche su questo. Lo scorso anno cosa gli ha insegnato? Lo scorso anno ci ha insegnato che di faccia non c'è niente, è normale che Perugia sappiamo tutti la piazza che è, è una piazza importante, è una piazza piena di cuore, di anima e di gente che la vorrebbe vedere in alto, però i fatti sono questi, c'è da rendersi conto che questa è la situazione e cercare di lavorare per poter fare un campionato importante e perché no riportare Perugia in Serie B. Però dobbiamo rendersi conto che in questo momento siamo in Serie C, la Serie C è un campionato duro, ne sale una e ci sono tante squadre comunque che hanno qualità e quindi sarà una battaglia, sarà una battaglia e daremo il massimo perché è questo che si merita la piazza, è questo che si meritano questi tifosi e quindi c'è da dare tutto, c'è da dare grinta, avere cuore per cercare di raggiungere il massimo che possiamo raggiungere. Rispetto al recente passato, partite con lo stesso allenatore, forse è un vantaggio? Ogni stagione è diversa, inizia una nuova stagione, quindi nuovi input, nuovi stimoli, sicuramente è un vantaggio perché lo conosciamo già, anche lui è un allenatore giovane e quindi non è un allenatore navigato, diciamo così, non è un allenatore navigato però ha delle belle idee, ha un atteggiamento importante e non lo stiamo seguendo, a spada tratta. Io spero che ci diano una mano tutti i tifosi, so che è una situazione un po' così, è sotto gli occhi di tutti, però noi abbiamo bisogno di loro, ripeto.